Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vorrei parlarvi della forma di cortesia in italiano, ovvero di quando si deve dare del lei in opposizione a dare del tu. La forma di cortesia è molto importante nella lingua italiana perché è molto utilizzata dai parlanti nativi. Quando non parliamo con i nostri amici, con la nostra famiglia o con persone che conosciamo bene, usiamo la forma di cortesia. Perciò in tantissime situazioni della vita quotidiana, in farmacia, al ristorante, al supermercato, per strada, eccetera, dobbiamo essere in grado di rivolgerci alle persone in modo cortese o in modo formale. Quando non conosciamo una persona, oppure siamo in rapporti lavorativi o molto formali con una persona, oppure dobbiamo parlare con una persona più grande di noi, che comunque non conosciamo bene, dobbiamo usare la forma di cortesia, dobbiamo dare del lei, altrimenti rischiamo di essere maleducati. Dal punto di vista grammaticale, che cosa significa dare del lei? Significa utilizzare il verbo coniugato alla terza persona singolare ed usare il pronome lei. Distinguiamo il lei della forma di cortesia da un pronome soggetto lei che si riferisce ad una donna utilizzandola L maiuscola per il pronome di cortesia. Non importa se la persona con cui parliamo è un uomo o una donna. Per dare del lei a qualcuno bisogna usare il pronome lei al singolare. Al plurale si deve usare il corrispettivo della terza persona singolare, quindi dobbiamo usare la terza persona plurale, loro. Facciamo degli esempi. Dando del tu a una persona chiederei, vuoi un caffè? Dando del lei ad una persona chiederei, vuole un caffè? Facciamo lo stesso esempio al plurale. Con la forma informale chiederei, volete un caffè? Mentre alla forma formale chiederei, vogliono un caffè? In questo caso si aggiunge anche la parola i signori o le signore. Quindi i signori vogliono un caffè? O le signore vogliono un caffè? Questa è una frase tipica o una domanda tipica che potete ascoltare nei ristoranti, quando un cameriere si rivolge ad un tavolo con più di una persona. Facciamo altri esempi. Perché non compri questo romanzo? Perché non compra questo romanzo? Perché non comprate questo romanzo? Perché non comprano questo romanzo? prendi un biscotto. Prenda un biscotto. Prendete un biscotto. Prendano un biscotto. Nelle ultime due coppie di esempi vediamo che l'intenzione comunicativa è quella dell'esortazione a fare qualcosa. Quindi si invita qualcuno a fare qualcosa. Che è l'intenzione comunicativa propria del modo imperativo. Mentre vediamo che la coniugazione verbale delle frasi formali è propria del modo congiuntivo, tempo presente. Questo perché formalmente la terza persona singolare e la terza persona plurale del modo imperativo tempo presente non esistono e quindi dobbiamo prendere in prestito le coniugazioni da un altro modo. Il modo prescelto è il congiuntivo. Vorrei aggiungere qualcosa riguardo alla forma di cortesia plurale. Bisogna dire che la forma cortese plurale, loro, non è molto usata nell'italiano contemporaneo ed è destinato ad ambienti e contesti molto formali. Quindi potreste sentire qualcuno che si rivolge ad un gruppo di persone che non conosce semplicemente con il pronome voi, quindi coniugando il verbo alla seconda persona plurale. Questo dipende molto dal contesto e dalle persone coinvolte nella situazione comunicativa, però potrebbe succedere. Questo è tutto per oggi, spero che la lezione vi sia utile. Grazie mille per aver guardato questo video e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!